E' stata presentata nella sala consigliare del Comune di Mendicino presso la Filanda Gaudio la neonata associazione culturale denominata la Ginestra. Una iniziativa frutto della volontà di un gruppo di giovani mendicinesi di dare vita ad un soggetto culturale che punti attraverso una serie di iniziative mirate a far rivivere Mendicino in tutte le sue possibilità. L'obiettivo fondamentale dell'associazione è promuovere attività sociali e culturali sul territorio mendicinese. E' chiaro che servirà alla mano di tutti anche perché da soli non siamo capaci di riprendere queste tradizioni. L'importante è assolutamente far diventare Mendicino come era un tempo, cioè centro di tutte le serre cosentine recuperando queste tradizioni che hanno fatto conoscere Mendicino non solo a livello nazionale ma in tutta Europa. Niente di politico, nessun orientamento partitico, solo un'azione che punti al bene del territorio in ottica anche di un futuro migliore per le nuove generazioni. E' un'associazione partitica che non è nata assolutamente per forire qualsiasi compagine politica impegnata nella vita politica di Mendicino. E' nata per essere soltanto punto di riferimento, incontro culturale di noi giovani al fine di riuscire a realizzare quei sogni che ognuno di noi ha conservato, conserva nel proprio cuore. Tante le idee in cantiere e progetti che dagli a breve l'associazione intende realizzare. Prossimamente c'è sabato dove avremo un torneo di carte, non sarà l'evento legato esclusivamente al torneo di carte ma soprattutto l'incontro generazionale tra giovani e anziani in piazza perché la piazza deve essere punto di aggregazione fondamentale di tutto il paese. Prossimamente Prossimamente